La scuola di decorazione si caratterizza per la molteplicità dei linguaggi, delle tecniche e delle culture che utilizza nella formazione degli studenti, realizzando opere d'arte specifiche per gli spazi architettonici e naturalistici. Una piazza, un complesso architettonico di interesse pubblico, un parco, un edificio di culto, un museo. Il contratto firmato da Michelangelo per la Cappella Sistina si usava il termine appunto di decorazione di uno spazio architettonico. Permetteremo agli studenti di conoscere e utilizzare tutte le metodologie artistiche che vanno dalla pittura alla scultura, dall'installazione site specific alle arti sperimentali. Non a caso il nostro modello di formazione sono i grandi istituti d'arte che hanno fatto la storia del Novecento. I corsi di decorazione si dividono in tre indirizzi specifici, decorazione, decorazione ambientale, decorazione dell'arte sagra, moderna e contemporanea. Si organizzeranno tutta una serie di eventi esterni come mostre, iniziative culturali. Gli obiettivi formativi del corso sono soprattutto professionali. Ecco perché per noi non è importante solo realizzare le opere ma installare queste opere in uno spazio architettonico pubblico o privato. Quindi ecco tutto questo porta lo studente ad avere una preparazione professionale molto molto adatta alla modernità e al contemporaneo.